Queste mi sembrano le condizioni quadro per aprire il ragionamento. Ci sono dei tempi, anche questo può sembrare un po'... però credo che sia nel rispetto delle parti. Abbiamo fatto passare quattro mesi inutilmente. Io sostengo, credo di essere sorretto, ripeto, dalla regione, dalla provincia. Se entro il 15 di maggio questo protocollo di intesa non si firma, noi mobilteremo tutte le nostre forze parlamentari, ma tutti quelli che hanno creduto in questa battaglia saranno su questo fronte. Credo che non faremo il bene di nessuno, ma la battaglia si avvia. Forti anche, diciamo, delle proposte di acquisizione che chiaramente non svediamo, ma che esistono realmente. Sì, ma io sono il Comune della Spezia, quindi soltanto il Comune della Spezia ha avuto contatti, ma io penso la provincia altrettanto, la regione, la proprietà, al Ministero. Io penso che anche questa potrebbe essere una prima cosa simpatica. Oggi, a quest'ora, proprio in questi momenti, si poteva firmare il protocollo. Fra un'ora c'erano già le condizioni per capire, ma quali contatti magari saranno da scremare, magari ci sono contatti che sono, diciamo così, più velleitari. Ma se noi fossimo in grado oggi pomeriggio di dire, beh, so, quanto costa l'area, di che qualità, come me... Cioè, forse con gli interlocutori domani mattina alle 8 potremo cominciare a ragionare di cose serie. Finché non si firma il protocollo, io non sono... Da questo punto di vista, io sono non abilitato a discutere con voi di questa cosa. Mentre sono abilitato a dire che posso aprire un contenzioso, io non sono abilitato a discutere di voi, perché non c'è una firma. Oggi c'è un proprietario che ha cessato un'attività e che potrebbe vendere a chiunque. Il problema è che l'accordo, invece, mette insieme la qualità dello sviluppo e soprattutto il mantenimento dei livelli occupazionati. Perché se no, a vendere si fa presto. Cioè, a vendere senza lavoratori si fa presto. È più semplice. Non sarò io certo a sottolineare che quell'area è un'area di pregio della città e che lì, lo sanno, credo, tutti in Italia, che sta per nascere il più grande concentramento mondiale della nautica da di Porto, che è un'area atteggiata, lo sappiamo tutti, diciamo. Quindi può vendere liberamente. Poi, se il contenitore è vuoto, figuriamoci ancora meglio. Eh, ma c'è un problema, perché noi non possiamo pensare alle speculazioni. No, alle speculazioni si pensano in tempi di banche grasse. In una crisi di questa natura, prima di tutto, ci abbiamo di fronte i 148 licenziati. Questo è un problema comune, non è un problema solo mio. È un problema anche della proprietà. Assolutamente. Possiamo dire che tra i due, tre maggiori, chiamiamo gli acquirenti, possibili acquirenti, quindi ce n'è una che continuerebbe proprio anche nella, diciamo, realizzazione di lavatrici, magari per altri mercati o per altre cose. Per cui il contracolpo sarebbe veramente dieve, se non una volta, appunto, ha avuto di fronte i dati per la contattazione. Sì, 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 questa cosa, questa informazione che lei ha corrisponde al vero. Non c'è soltanto questa. Ci sono più opportunità, anche di modello di sviluppo differente. Almeno quelle che, diciamo, sono ruotate nella discussione intorno al comune, sono tutte fortemente appetibili. Una può avere questo pregio che lei indicava, cioè mantenere quel livello produttivo è un po' più semplice per tutti. I lavoratori sono già attrezzati, la produzione si può mettere in piedi in tempi molto più rapidi, quindi è un'ottima occasione. Un secondo è l'area della nautica, perché se quello diventa davvero il crogiolo della nautica mondiale, beh, insomma, avere un grande punto di riferimento della nautica, un nome prestigioso della nautica mondiale, a noi come sistema territorio farebbe molto covo. Ma penso anche a sistemi legati ai sistemi energetici. Questa è una città che è elogorata da una discussione sui sistemi energetici. Dare l'idea di adoperare quell'area su un pezzo di sistema energetico delle rinnovabili è anche questa un'idea che la città, come dire, volge al futuro, no? Ripeto, solo le prime poche cose che il comune capoluogo ha cominciato, in modo, lo ripeto, del tutto arbitrario, perché non è abilitato a farlo, diciamo, ma così, diciamo, a livello di consulenza ha introdotto. Quindi, mi sembra che siano arrivati i tempi, ci sono tutte le condizioni per avviare questo processo. Non capisco perché oggi, scusate, questa è la parte di scopo, non si è chiusa questa operazione con una firma. Ci dicono che la proprietà è all'estero, ma è la proprietà che ha concordato la data del 29 aprile, mica io. Perché io, se dovessi aver concordato io, la concordavo il 20 gennaio, diciamo, dopo che abbiamo firmato il primo accordo, tre giorni dopo avrei firmato il protocollo. Tanto ci abbiamo messo a scriverlo. Cioè, il Ministero delle Attività Produttive, insieme alle organizzazioni sindacali e istituzioni, in 72 ore aveva sostanzialmente scritto il protocollo. Potevamo firmarlo tre giorni prima. L'abbiamo rinviata perché la proprietà ha voluto fare tutti i sondaggi rispetto a quell'ipotesi di protocollo. Quando ci ha detto che il protocollo va bene, si firma il 29 aprile, abbiamo detto tutti, aspettiamo un mese in più. Aspettiamo un mese in più. Ora però, di fronte al fatto, oggi è il 29 aprile, non abbiamo una data, io credo che sia anche un compito delle istituzioni. Cioè, non possiamo sempre tacere, per paura che succeda qualcosa, no? Bisogna anche dirlo. Io sono preoccupato. Cominciamo a mettere un po' dei limiti. Se entro il 15 di maggio non c'è questa firma, dobbiamo cominciare ad aprire, non avendo paura, diciamo, perché certo vanno più delati i lavoratori, ma di aprire è contenzioso.